La dichiarazione di ieri mattina dell'ufficio provinciale è che loro nella scuola non entrano nel merito, una volta che un'associazione entra nella scuola non entrano nel merito di quelli che sono i temi trattati nei corsi. E domani io farò dei comunicati dicendo che questo mi preoccupa moltissimo perché allora cosa mandiamo? Un argastorano o un pedofilo nella scuola? Al di là della provocazione della battuta però la domanda è come puoi tu non essere in qualche modo garante, tu ministero, di che cosa succede nella scuola? Non puoi lavarti le mani dicendo l'associazione tal dei tali è stata accreditata e quindi di lì in avanti tutto quello che fa va bene perché poi si arriva a situazioni veramente imbarazzanti come quelle a cui abbiamo assistito in questi giorni talmente gravi da richiedere l'intervento della magistratura e dei carabinieri. Allora secondo me il ministero deve fare un piccolo passo indietro e avviare una riflessione e altro che scendiamo nel merito di che cosa succede nella scuola italiana. E' chiaro che non possiamo, non è ipotizzabile che l'ente pubblico scenda nel dettaglio dei singoli moduli di che cosa si parla o di che cosa non si parla ma un'attenzione deve esserci e deve essere un'attenzione sicuramente maggiore rispetto a quella prestata in questa occasione. Non ce ne si può lavare le mani dicendo come pare essere uscito ieri il messaggio dall'ufficio scolastico provinciale, noi non sapevamo, adesso risponderemo alla magistratura. Un po' tardivo come presa di posizione. Questa è una cosa. Il secondo aspetto che mi sento di evidenziare riguardo alla questione bolognese è analogo per certi versi a quello che ho appena descritto del ministero della pubblica istruzione che è l'atteggiamento dell'ASL di Bologna. Che da un lato ne esce bene giustamente perché chi si occupa di neuropsicatria a Bologna ha un punto di vista equilibrato, da pochi psicofarmaci, li da solo quando servono. Si rifà a delle linee guida più restrittive addirittura di quelle utilizzate normalmente, cioè laddove la maggior parte dei psichiatri utilizzano per questo tipo di diagnosi le schede, gli schemi, le linee guida del DSM, il manuale statistico-diagnostico che è scritto da un'associazione psichiatrica privata americana. Invece l'ASL di Bologna si rifà al manuale diagnostico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un ente sovranazionale, più serio, un punto di vista più equilibrato e più prudente. Quindi ne esce indubbiamente bene da questo punto di vista. Ma anche lì non può lavarsene le mani. Mi spiego meglio. L'ASL di Bologna era al corrente, e ne abbiamo le prove, che esisteva questa migrazione di piccoli pazienti dall'Emilia Romagna verso il Veneto. Lo sapevano, lo sapevano da mesi, sapevano che c'era questa migrazione alla ricerca di quella che abbiamo definito provocatoriamente la ricetta facile, o meglio, la ricetta più facile rispetto a Bologna. Mi spiego meglio. Il bambino che a Bologna era considerato lievemente problematico, e quindi il disagio del bambino era affrontabile con psicoterapia, terapia della parola, pedagogia clinica, insomma, con tutta una serie di modalità di intervento non farmacologiche, che magicamente arrivava in Veneto, a Sandona di Piave, in altre strutture pubbliche, e diventava gravemente patologico, tanto da richiedere lo psicofarmaco. Era lo stesso identico bambino, come è possibile che in un ASL sia lieve e in un'altra ASL sia grave? L'ASL di Bologna nega di essere al corrente, questo è falso, l'ASL di Bologna sapeva, o meglio, gli operatori dell'ASL di Bologna sapevano che c'era questa migrazione. C'è una dichiarazione in tal senso, sbobinata, di un operatore dirigente dell'ASL di Bologna, un convegno a Dimola, vado a memoria mi pare il 12 di dicembre, ma comunque abbiamo gli atti e possiamo quindi confermarlo agevolmente anche all'autorità inquirente, in cui, sbottando, questo professore dice non lo dite a me che non bisogna dare psicofarmaci ai bambini, tanto che io ne do pochissimi, e i genitori, i nervositi e irritati perché io do pochissimi psicofarmaci, si prendono la libertà di portare i bambini altrove. E questo è gravissimo. Allora, noi vogliamo sapere perché l'ASL di Bologna non è intervenuta lei. Vale lo stesso discorso del Ministero della Pubblica Istruzione. È troppo facile adesso dire, non sapevamo niente, ah beh, al massimo andremo a rispondere alle domande della magistratura. No, no, non funziona così. L'ente pubblico ha un preciso obbligo di vigilanza. Il Ministero Pubblica Istruzione è all'interno della scuola per sapere che cosa sta succedendo e l'ASL all'interno del proprio territorio di riferimento, dove deve dare assistenza ai pazienti per quanto riguarda le terapie correnti, ma anche se al corrente di male pratiche sanitarie, deve denunciarle. Dovevano essere loro, l'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'ASL, ad interpellare la magistratura per segnalare queste curiosità. Il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale dice che questa associazione bolognese di sedicenti psicologi che si aggiravano per le scuole consigliando agli insegnanti e genitori di utilizzare psicofarmaci sui bambini irrequieti era accreditata, c'è un'ansa di ieri che riporta le sue parole, era accreditata dall'ASL e dall'Università. Ma chi ha accreditato un'associazione la cui Presidente si vanta di essere psicologa e così si qualifica in pubblico e non è neanche iscritta all'albo degli psicologi e non è un medico nonostante parli di effetti collaterali di psicofarmaci e nonostante consigli l'uso di psicofarmaci ai genitori descrivendoli come prodotti innocui dagli scarsi effetti collaterali e utili per la gestione del bambino distratto ed irrequieto? Chi si è preso la responsabilità di accreditare questa associazione? Voglio essere molto schietto, noi come Giuliani e Bambini ci occupiamo di vigilanza, non abbiamo fatto che il nostro lavoro siamo venuti a conoscenza di situazioni nella scuola e nelle famiglie sconvenienti ai limiti della legalità li abbiamo segnalati, è stato aperto un fascicolo da parte della magistratura, c'è un'inchiesta in corso i NAS sono stati incaricati e stanno svolgendo gli approfondimenti e le indagini lasciamo che la magistratura opere in serenità, ma il quesito che io pongo è di tipo politico nel senso alto del termine perché siamo dovuti arrivare noi a fare questo? Avrebbe dovuto farlo l'ASLA, avrebbe dovuto farlo il Ministero è troppo facile lavarsi le mani su situazioni così delicate che riguardano la salute dei nostri bambini Siamo con Luca Poma che è responsabile di questa organizzazione, si chiama Giù le mani dai bambini di che cosa si occupa nello specifico Giù le mani dai bambini e che rapporto, che relazione ha con questa mi permetto di dire nuova sindrome che è appunto la ADHD Giù le mani dai bambini, io ne sono il portavoce nazionale, sono giornalista e Giù le mani dai bambini è un comitato, vuol dire un'associazione di associazioni diciamo, una serie di enti si sono riuniti intorno a un tavolo e hanno deciso di dedicare una parte delle loro risorse professionali, della loro attenzione al tema dell'infanzia, concentrandosi però su campagne specifiche quella che stiamo seguendo negli ultimi anni è appunto una campagna di farmacovigilanza sono 184 gli enti riuniti intorno a questo tavolo, in questo consorziati, in Giù le mani dei bambini tra cui 11 università, ordini dei medici, associazioni sociosanitarie, genitoriali che si occupano, dicevo, di farmacovigilanza, questo che cosa significa in breve? Significa sensibilizzare, informare e vigilare che non ci siano abusi in un settore molto delicato che è quello appunto del rapporto tra farmaci e bambini segnatamente tra psicofarmaci e bambini era arrivata questa onda lunga di allarme dagli Stati Uniti dove sono circa 11 milioni i bambini in terapia con psicofarmaci per risolvere il loro disagio del comportamento inizialmente si riteneva fosse un problema solo americano poi qualche anno fa è uscito un avviso ufficiale delle Nazioni Unite dell'International Narcotic Board dell'ONU che è un organismo che si occupa proprio di vigilare su droghe, farmaci e prodotti di questo genere psicoattivi, che dice, che metteva allarme dicendo c'è stato un più 100% di vendita di questo tipo di prodotti psicoattivi per i minori in 50 paesi del mondo, inclusi 9 paesi europei tra cui anche paesi come la Spagna per esempio o la Francia che hanno un sistema, una struttura culturale molto simile all'Italia e poneva questo avviso dell'ONU l'accento sul fatto che si teme che in molti di questi paesi si possa arrivare ad un abuso prescrittivo, a un'iperprescrizione ad un utilizzo troppo disinvolto esattamente al pari di quello che è successo negli Stati Uniti in Inghilterra è già assolutamente il caso di parlare di emergenza sanitaria con oltre 500.000 bambini sotto metanfetamine per risolvere problemi di eccessiva agitazione a scuola allora ci siamo posti il problema a questa serie di enti se posso provare di fare qualcosa a riguardo cioè di intervenire perché non accadesse anche in Italia di intervenire affinché in qualche modo si evitasse cito un vecchio adagio popolare di chiudere poi la stalla quando i bui erano scappati e quindi facciamo qualcosa per informare la popolazione questo non significa, vorrei specificarlo da subito e questa è una parte veramente fondamentale del nostro lavoro né demonizzare i farmaci né condurre battaglie ideologiche contro le multinazionali non è questo il nostro scopo per assurdo, lo dico come provocazione anche se a titolo personale sono contrario anche perché ho avuto modo di approfondire molto l'argomento facendo questo lavoro per assurdo è fin anche giusto che un genitore se lo desidera abbia, posto che lo specialista lo autorizzi la libertà di intervenire con tutti i mezzi terapeutici lo dico provocatoriamente anche con lo psicofarmaco se ritiene opportuno farlo qual è il discorso che facciamo noi? assicuriamoci che i genitori, le famiglie, gli insegnanti, gli operatori siano completamente informati perché da una completa, obiettiva ed equidistante informazione deriva una cosa importantissima che è la consapevolezza quando il genitore ha la piena consapevolezza dei rischi che corre nel somministrare un psicofarmaco a un bambino di 6-8 anni puntualmente sceglie altre soluzioni quindi il grosso lavoro nostro non è indirizzato verso un proibizionismo che ci riporterebbe indietro di anni non è quello lo scopo il nostro lavoro è organizzato verso un'informazione completa e corretta che in Italia probabilmente su questi temi mancava quindi abbiamo anche attivato un portale internet che è giuremanidebambini.org che per una scelta, anche qui uso il termine politica nel senso alto del termine è un portale di libero accesso nel senso che tutti i documenti sono scaricabili dalla cittadinanza gratuitamente anche quando a noi costa in qualche modo magari tradurli perché sono ricerche di università estere in lingue straniere eccetera e tutti i documenti sono scaricabili senza bisogno di registrarsi sul portale senza neanche bisogno in completo anonimato questo perché lo spirito è stato proprio quello di garantire un'informazione accessibile a tutti indistintamente non mi interessa sapere chi è che mi sta chiedendo qualcosa è il mio dovere fare informazione questo si incrocia con un po' la filosofia di giù le mani dei bambini che è quella di essere un'organizzazione completamente orizzontale noi non abbiamo un presidente, un direttivo, un vicepresidente, un segretario generale come tante altre realtà del no profit è una realtà trasparente, su base democratica, completamente orizzontale siamo tutti volontari, io stesso sono un volontario il nostro obiettivo è questo informare, abbiamo già distribuito circa 700.000 pubblicazioni gratuite con spese postali a nostro carico a tutte quelle famiglie che ritenevano di avere necessità di comprendere questo fenomeno fenomeno, quello degli psicofarmaci e bambini che affonda le proprie radici in un problema tutto contemporaneo quello per certi versi dell'ansia da performance questi bambini non hanno neanche più diritto ad annoiarsi guai a dire a un bambino si annoia mentre invece la noia dovrebbe essere un momento in cui mi interrogo in cui, come posso dire, mi guardo dentro in cui ricerco nuovi stimoli mentre invece oggi come oggi i bambini assolutamente non devono più annoiarsi hanno la scuola, finita la scuola c'è la lezione d'inglese poi c'è la piscina, poi c'è la palestra, poi ci sono i compiti allora interroghiamoci su che tipo di mondo noi stiamo offrendo a questi bambini tanti di loro sono iperattivi, requieti, distratti interroghiamoci su quanto tempo passano davanti alla tv interroghiamoci sugli spazi che noi gli stiamo garantendo o meglio, che non gli stiamo più da tempo garantendo per sfogare la propria energia interroghiamoci appunto sulla gestione dei tempi che è profondamente sbagliata a nostro avviso ecco, ci sono tutti questi interrogativi che però puntualmente ci riportano a un minimo comune denominatore all'adulto, non al bambino cioè a che cosa gli adulti oggi offrono alle nuove generazioni questa è la grande domanda vogliamo dire che cos'è l'ADHD, perché se ne parla tanto, ma magari cercando di esprimere in maniera divulgativa l'estiopatogenesi e la sindrome in sé per sé vi dico che cos'è in breve ADHD è la sindrome da iperattività l'acronimo inglese di sindrome da iperattività e deficit di attenzione quindi i bambini eccessivamente agitati per certi versi e con poca disponibilità ad ascoltare a prestare attenzione vorrei sfattare in estrema sintesi alcuni miti il primo non esiste ancora una prova scientifica certa sul fatto che questo problema del comportamento sia una malattia di origine organica da curare con farmaci piuttosto che invece come molti specialisti a cui noi facciamo riferimento sostengono non sia invece un problema ambientale collegato appunto a problemi sociali di ritmi di vita di rapporti con gli altri eccetera pedagogici e quant'altro molti spacciano certezze inesistenti nel senso che c'è un'intera corrente di pensiero che sostiene che questa sia una malattia di origine biologica vorrei essere estremamente chiaro la comunità scientifica non è assolutamente concorde sul fatto che questo sia vero la discussione è in pieno svolgimento ci sono tante evidenze scientifiche di ricerche effettuate che tendono a provare che questa è una malattia di origine biologica quante ce ne sono pari pari che dimostrano il contrario e le sconfessano ci sarebbe poi da indagare su chi finanzia le prime dal momento che spesse volte sono riconducibili a progetti di ricerca universitaria finanziati da chi quei farmaci li produce detto questo e anche senza entrare in polemiche l'unica certezza che abbiamo è che non esistono certezze su questo tema in questo momento questo significa che se non esistono certezze prima di somministrare una metanfettamina un bambino di 6 anni ci rifletterei con un pochino più di attenzione altro mito il Ritalin contestato ma anche qui facciamo bene attenzione a non cadere nella trappola di fare la battaglia anti-Ritalin perché via Ritalin c'è lo strattera via lo strattera c'è l'adderal via l'adderal c'è il concerta ogni casa farmaceutica ha i suoi psicofarmaci per l'infanzia quindi anche lì il problema è culturale non è tanto di battaglia contro la multinazionale e comunque questo tipo di prodotti non curano nulla su questo vorrei essere molto chiaro sono dei prodotti sintomatici allora non commettiamo neanche l'errore opposto mi spiego meglio il bambino che come dico spesso a volte io nei convegni con una battuta prende afforbiciati i compagni e si rampica sulle tende e dà gli schiaffi agli insegnanti non è un bambino normale cioè è un bambino che ha un problema mi spiego meglio non possiamo cadere nella trappola opposta di dire ah è solo un bambino vivace finché poi non ammazza qualcuno finché poi non si fa del male lui stesso ci sono situazioni veramente limite che solo un genitore che ha in caso un bambino del genere riesce a comprendere situazioni di vera difficoltà quindi è assodato che questo bambino ha un problema ed è assodato che deve essere preso in carico casomai il discorso è che tipo di risposta noi diamo a questo problema il farmaco è un sintomatico non cura niente risolve eventualmente i sintomi quindi rende più accettabile socialmente il bambino può avere un utile effetto contenitivo il bambino sta per farsi male o per fare del male agli altri può essere un'arma nell'arsenale terapeutico che permette di porre sotto controllo la situazione ma non risolve nulla qual è allora la grande trappola do il metilfenidato do la tomoxetina un altro principio chimico del genere a un bambino risolvo il sintomo ah che bello il bambino è guarito continuo a darglielo sono psicofarmaci che dovrebbero appunto eventualmente essere utilizzati in maniera residuale proprio in casi estremi per quelle 3, 4, 5 settimane un mese due mesi massimo per permettere poi di fare strada ad altre terapie ci sono invece bambini che sono 2 anni 3 anni 4 anni che assumono continuativamente questo psicofarmaco perché? perché il bambino è tanto tranquillo da quando prende la pastiglia c'è chi sostiene che sia una malattia geneticamente determinata questo è assolutamente allora chi sostiene questo dovrebbe provarlo uno dei più grandi sponsor della soluzione farmacologica che è Berkles negli Stati Uniti un professor universitario ammette due anni fa in una conferenza pubblica è vero non abbiamo ancora trovato un marcatore biologico della DHD allora dichiarazioni di principio francamente hanno stufato quelli che io chiamo i sacerdoti della morale scientifica che si stracciano le vesti non appena qualcuno li mette in discussione dovrebbero cito Enrico Nonnis grande neuropsichiatra infantile di psichiatria democratica dovrebbero fare un bagno di umiltà e ripartire da queste poche basi sulla DHD o comunque sull'iperattività sui problemi di comportamento dei bambini non c'è ancora niente di certo gli psicofarmaci non curano nulla e servono solo per contenere i sintomi bisogna avere più risorse nella scuola nel servizio sanitario per fare interventi di tipo diverso che vadano a caccia di quello che è il vero problema profondo che genera il disagio del bambino questi sono diciamo i tre punti fondamentali chiarito questo e quindi fatto il bagno di umiltà tutti quanti seduti intorno a un tavolo di lì ripartiamo e cerchiamo soluzioni adeguate per questi disagi del mondo dell'epoca contemporanea che certamente riguardano sempre più bambini e sempre più adolescenti ma prima bisogna fare questo piccolo passo indietro del resto è comprovato che viviamo in un contesto sociale assolutamente patogeno in quanto compulsivante in quanto induttore di patologia nei bambini negli adolescenti per focalizzare l'attenzione su questa fascia io vorrei sottolineare un attimino ciò che ormai è comprovato sia gli effetti collaterali che questa tipologia di farmaci procura ci sono delle interferenze sulla crescita fisica del bambino quindi verissimilmente agendo a livello del sistema dopaminergico ovviamente questo farmaco interferisce con l'ipofisi e con tutto quello che ci va dietro quindi e inoltre andando ad impegnare i recettori i recettori del sistema dopaminergico chiaramente che cosa può procurare al bambino lo può trasformare in un tossicodipendente punto di domanda lo può trasformare in un compulsivo che poi porta a quelli che sono i sindromi le sindromi da disturbi di relazione vedi i disturbi del comportamento alimentare vedi le sindromi da dipendenza tipo l'autolesionismo ecco perché queste sono domande che a mio avviso vanno poste vanno chiarite perché non si parla solo di bambini si parla di bambini che diventeranno adolescenti che diventeranno adulti cittadini il problema degli effetti collaterali è un problema e non possiamo tacerne mi spiego meglio e cerco di rendere il concetto in maniera divulgativa questi farmaci hanno effetti collaterali basta prendere il bugiardino e sincerarsi dico qualcosa di più al di sotto di un certo tasso di mortalità o di problemi iatrogeni la casa farmaceutica non è obbligata a segnalarlo nel bugiardino quindi in realtà per avere e qui ci sarebbe un grande discorso da fare in termini di trasparenza nei confronti del cittadino per avere un quadro completo degli effetti collaterali noi dobbiamo leggere la scheda tecnica che è riservata agli addetti ai lavori che si trova solo in ambito ospedaliero mi chiedo perché ci siano delle informazioni che in qualche modo devono essere disponibili al medico e non al paziente soprattutto quando parliamo di bambini noi per non sbagliare sul nostro portale li abbiamo pubblicati entrambi sia il bugiardino che la scheda tecnica facendo magari un po' irritare il produttore ma per noi c'è un bene che è superiore a qualunque altro che è l'interesse del minore quali sono gli effetti collaterali appunto scaricando la scheda tecnica li potete vedere sul portale ma cito una cosa che forse in Italia è uscita poco la Food and Drug Administration che è l'ente il massimo ente sanitario di controllo americano non più tardi di sei mesi fa emana quello che in gergo tecnico chiamiamo un warning urgente cioè un avviso urgente che manda alle case farmaceutiche e a tutti i medici abilitati all'esercizio della professione negli Stati Uniti in cui obbliga le prime a riportare come si usa da noi per i pacchetti di sigarette in un apposito riquadro nero il cosiddetto black box sulle confezioni tutti i nuovi gravi rischi riscontrati dalle più recenti ricerche nell'utilizzo di questi psicofarmaci e sono effetti collaterali non da ridere da occlusione cerebrale a infarto morte per infarto del miocardio anche sviluppo di sindrome psichiatriche in bambini che non avevano mai manifestato prima questo tipo di problemi ed altri effetti collaterali che non sono esattamente un eritema voglio dire non solo obbliga tutti i medici a convocare attenzione sto dicendo obbliga non chiede invita o domanda tutti i medici a convocare in studio i genitori dei piccoli pazienti che assumevano questo tipo di psicofarmaci che lì somministravano i propri figli informandoli e facendoli firmare moduli di consenso informato riguardo a questi tipi di effetti collaterali recentemente emersi se un ente di stato arriva a prendere iniziative così drastiche dobbiamo anche qui porci delle domande a riflettere qual è il beneficio sull'immediato l'abbiamo detto quello di contenere il comportamento del bambino in qualche modo poniamoci un'altra domanda allora qual è il rischio sul medio e lungo termine dobbiamo essere onesti non neghiamo che esista un beneficio sul breve termine perché è vero il bambino è più calmo è più attento focalizza l'attenzione ritrova serenità per certi versi certe terapie della parola e psicoterapia attecchiscono più velocemente perché il bambino presta più attenzione al terapeuta ci sono indubbiamente sul medio periodo scusate sul breve periodo dei benefici lo metto tra virgolette il problema la domanda è a quale prezzo sul medio e lungo termine questi benefici in america hanno già iniziato a stilare una lista di morti quindi speriamo che in italia non succeda in italia in italia esistono dei protocolli noi non abbiamo paura di ammettere questo sicuramente migliori di quegli americani ci voleva anche poco vista la situazione negli Stati Uniti comunque sicuramente migliori di quegli americani è stato attivato un registro su cui verranno iscritti questi bambini in maniera anonima nel senso che solo l'istituto superiore di sanità potrà accedere ai dati sono server con standard di sicurezza elevati non è possibile intrusioni dall'esterno la privacy è adeguatamente pare da quello che ci raccontano tutelata questo registro servirà proprio per capire chi consuma che cosa in quali quantità verificare se ci sono meno abusi nella prescrizione qual è il grosso punto critico del sistema i protocolli cioè le linee guida che regolano la diagnosi e poi soprattutto la somministrazione di questi psicofarmaci perché perché dovevano essere uno spioncino per usare una metafora e sono un arco di trionfo cioè è troppo alto il margine interpretativo per lo specialista se non si spiegherebbe come ho detto prima perché un bambino a Bologna sia un po' disturbato e in un'altra ASL sia grave ed è lo stesso identico bambino con gli stessi identici problemi questo significa che si apre la porta la possibilità che i bambini che possono essere trattati con terapie non farmacologiche vengano invece trattati con psicofarmaci anche laddove assolutamente non necessario noi abbiamo chiesto la revisione di questi protocolli l'abbiamo chiesta a noi l'ha chiesta al Parlamento Camera e Senato nell'ultima legislatura ci sono state decine di interrogazioni parlamentari l'Istituto Superiore di Sanità l'Agenzia Italiana del Farmaco e in ultimo anche il Ministro della Salute hanno aperto non uno ma due tavoli per esaminare la possibilità di rivedere questi protocolli in senso più restrittivo devo dire che siamo soffocati dalla burocrazia nel senso che psichiatri e specialisti a cui noi diamo voce chiedono modifiche e l'Istituto Superiore di Sanità ci mette 4 mesi per ogni richiesta a rispondere ecco allora andando avanti di questi tempi forse modificheremo i protocolli tra 10 anni nel frattempo a chissà quanti bambini avranno già somministrato psicofarmaci quando non necessario la cosa interessante da notare è anche un'altra qui non stiamo facendo una battaglia ideologica è facile poter dire a me per esempio che sono un giornalista cosa vuoi capirne non sei un medico qui ci sono neuropsichiatri infantili che dicono che non va bene somministrare questo tipo di farmaci ai bambini ci sono psichiatri pedagogisti clinici docenti universitari in medicina in pedagogia in psicologia non è una questione appunto di battaglia di principio ci sono noi abbiamo consegnato all'agenzia italiana del farmaco e all'istituto superiore di sanità in occasione della giornata mondiale dell'infanzia che abbiamo festeggiato con un grande evento a Roma con una grande tavola rotonda internazionale su questi temi proprio il novembre scorso abbiamo provocatoriamente consegnato 700 pagine di evidenze scientifiche due tomi alti così che criticano questi protocolli che mettono in dubbio la necessità di utilizzare questi farmaci eccetera ci è stato risposto li studieremo ma io veramente non capisco nel senso che cioè è mai possibile che dobbiamo essere noi a segnalare queste circostanze dovrebbero essere loro casomai che vigilano e prendono provvedimenti invece ci sembra come dire anche senza accusare nessuno di mala fede ma che ci sia un certo un certo lassismo forse io capisco che le due l'agenzia regolatoria l'agenzia del farmaco e l'istituto superiore di sanità abbiano molte cose in agenda all'ordine del giorno però a nostro avviso questo problema che riguarda la salute dei bambini dovrebbe essere percepito come un'urgenza di carattere diverso dovrebbe esserci maggiore attenzione e una più sollecita volontà nel migliorare le cose non basta coccolarci nell'idea che abbiamo fatto meglio degli americani perché si può fare ancora molto meglio di quello che abbiamo fatto e non capiamo perché non sta venendo fatto non pensi che una campagna di informazione a tappeto sia per quanto riguarda anche gli semplici medici di base perché comunque è da loro che parte comunque l'invio verso la neuropsichiatria e gli insegnanti perché poi sono i due diciamo i due punti di partenza di tutta la faccenda potrebbe in qualche modo aiutare a velocizzare e se non altro a chiarire le idee a questi poveri genitori che si trovano poi in balia perché io non mi sento di colpevolizzare i genitori perché in effetti come hai detto tu giustamente avere un bambino altamente irrequieto chiamiamolo così in casa non è una roba semplice però se noi se si riuscisse a fare una campagna a largo raggio di informazione come state facendo peraltro voi ma che tutte le organizzazioni che vi appoggiano e cercando di allargare sempre di più magari riuscire ad arrivare a tutti i medici di base a tutti gli insegnanti Sì, questo va assolutamente fatto noi stiamo cercando di farlo con un'unica discriminante limitatamente alle risorse che abbiamo nel senso lo ripeto Giù le mani dei bambini è appunto un'iniziativa che si basa esclusivamente sulle gambe dei volontari non abbiamo grandi multinazionali che ci finanziano e quindi cerchiamo di darci da fare per dire solo questa settimana saremo presenti in due città per due convegni informativi dopo domani io sarò a Trento poi sabato mattina saremo a Milano per un altro convegno di sensibilizzazione e abbiamo nei prossimi 60 giorni 7 appuntamenti pubblici in giro per l'Italia quindi si cerca di fare tutto quello che riusciamo a fare anche con l'aiuto dei membri del consorzio del comitato Giù le mani dei bambini sarebbe bello che questo invece venisse anche fatto un po' da parte pubblica forse tuttavia lancio una preoccupazione una provocazione forse è meglio se non lo fanno nel senso che per come attualmente è inteso il problema della somministrazione di psicofarmaci minori non mi stupirebbe se l'Istituto Superiore di Sanità o l'Agenzia del Farmaco organizzassero una serie di conferenze come hanno già fatto per andare in giro a spiegare che è opportuno dare le psicofarmaci ai bambini iperattivi quindi forse è meglio se non fanno nulla in questo momento perché il loro comitato scientifico composto da tutta una serie di personaggi ecco come dire hanno un orientamento molto organicista per loro lo psicofarmaco è una soluzione non sono molto disponibili ad ammettere altre voci e a prendere nell'ambito di quelli che sono i protocolli scientifici lo ripeto in considerazione altri punti di vista e quindi finché non modificano un po' il loro modo di approcciare al problema forse è meglio se non fanno nulla io citerei a sottolineare che il fatto di non essere in perfetta sintonia con l'utilizzo degli psicofarmaci per trattare delle sindromi quindi dei sintomatici perché poi questi sono solamente dei sintomatici non vuol dire non essere degli organicisti io sono un organicista sono un internista però comunque ci si pone il problema su base scientifica quindi voglio dire forse dovrebbe svilupparsi la coscienza da parte dei medici adesso parliamo di questa categoria che poi è quella incriminata tra virgolette perché non vogliamo incriminare nessuno però insomma affinché questi parlassero dedicassero un pochettino più di tempo adesso stiamo parlando degli psicofarmaci ai bambini ma potremmo allargare il discorso all'utilizzo di una miriade di farmaci no? ecco certo questo volevo colgo al balzo perché certamente la classe medica è uno dei punti di snodo fondamentale quanto il medico ha voglia veramente di prendere in carico il disagio del bambino e quanto ha anche le risorse per farlo mi spiego meglio ci sono ad oggi mi pare codificate con certezza 184 patologie vere pediatriche cliniche che hanno nella propria batteria di sintomi la forte iperattività del bambino questo che cosa significa? faccio un esempio molto banale l'eccesso di metalli pesanti nel sangue in base a una serie di ricerche universitarie genera forte iperattività nel bambino idem i coloranti alcuni coloranti della classe che troviamo nelle merendine quando vediamo i numerini e 212 eccetera anche se senza citare i numeri ma si trovano facilmente su internet ce ne sono una serie che generano forte iperattività nel bambino in virtù di un'intolleranza eccetera qual è la grande mistificazione il grande inghippo in cui spesse volte cade l'ha detto i lavori il sanitario e lo specialista non si riesce a tracciare qual è la vera origine di questa iperattività mi spiego meglio è molto più semplice semplicistico direi io etichettare tutto come ADHD cioè questi sintomi che uno psicologo definisce sintomi prezzemolo che stanno un po' in tutta una serie di patologie sono l'ADHD punto stiamo rendendo un pessimo servizio al bambino per due ordini di motivi primo perché non indaghiamo su qual è il vero motivo che sta alla base della sua iperattività io do la metanfetamina al bambino non sto risolvendo il suo problema di intossicazione di coloranti di intolleranza alimentare o di metalli pesanti nel sangue che continua a persistere magari il bambino è ancora più intossicato di ieri e domani lo sarà più di oggi non solo sto facendo un pessimo servizio al bambino perché? perché sto camuffando coprendo e cancellando il campanello di allarme cioè perché è utile il sintomo perché ci dice che c'è qualcosa che non va ci allarma ci dice guardami ho un disagio ho qualcosa che non funziona invece io con lo psicofarmaco copro il sintomo e lo cancello e continua ad esserci il problema i protocolli del ministero prevedono la possibilità di esaminare una decina di queste patologie 10 su 184 francamente abbiamo ancora molti passi da compiere ecco che allora il ruolo del medico nell'informarsi nell'approfondire nel fare magari un mineralogramma del cappello al bambino questo è il lavoro dei medici non entro nel merito ma nel fare tutta quella serie di azioni che oggi non sempre vengono fatte non facciamo di tutta l'erba un faccio ci sono anche asla che lavorano benissimo ma in italia la situazione è un po' a macchia di leopardo nel fare tutta quella serie di azioni che ci permettono di escludere tutti i motivi per cui questo bambino è iperattivo i nostri specialisti i nostri neuropsichiatrici dicono che 99,9% mentre se viene fatta con serietà questo screening scopriamo che questo bambino è iperattivo perché veramente ha un problema magari medico pediatrico o psicologico o ambientale insomma di altra genere e quindi l'iperattività non è una malattia ma è un sintomo di un disagio più profondo che dobbiamo andare a indagare per riuscire a risolvere allora questo è un discorso serio di approfondimento non il prendere tutto riunirlo sotto un'unica etichetta e dare un farmaco psichiatrico per risolverlo per tentare di risolverlo ecco come ultima domanda poi non ti disturbo più tu non pensi che agire a livello sempre di informazione io sono una fanatica del passaggio di informazione ai pazienti perché così possono avere la libertà di fare delle scelte su base cognitiva alle famiglie perché verissimilmente questa sindrome non sono l'unica a dirlo insomma ci sono eminenti specialisti che già lo dicono va ricercata nella dinamica familiare al di là del contesto sociale che soverchia tutto però insomma nella dinamica familiare quindi prima di arrivare a fare tutte queste valutazioni su bambino indagare dice la famiglia certo questo è un punto nodale quando c'è un bambino disturbato spesse volte c'è un adulto disturbato dice il luogo comune ma spesse volte è proprio così indagare nel profondo che cosa sta succedendo a questo bambino a casa che cosa sta succedendo a scuola quali sono magari un adolescente per esempio quali sono i disturbi nell'evoluzione della sfera sessuale quali sono i problemi di accettazione nei confronti degli altri sono veramente tanti i problemi che vanno indagati cito un grandissimo personaggio americano che è Bill Carey William Carey è un grande pediatra americano è uno dei grandi esperti mondiali nel problema dei disturbi del comportamento è membro dell'Accademia delle Scienze USA ed è professore di pediatria clinica negli Stati Uniti in una nota università e lui è venuto in Italia recentemente per un convegno su questi temi a Roma e ha lanciato un appello molto forte dicendo fiducia nel buon senso degli italiani fate attenzione a non commettere i nostri stessi errori che abbiamo commesso negli Stati Uniti diffidate dalle soluzioni quelle che lui chiama soluzioni quick fix soluzioni facili a problemi complessi noi dobbiamo capire che questa mentalità con tutto rispetto per gli amici statunitensi è iper semplicistica o è tutto bianco o è tutto nero o stai bene o stai male se sei fuori da certe griglie non sei più normale tra virgolette e se non sei più normale che cosa puoi essere in questo diciamo forma di dualismo se non sei normale sei patologico e allora tutto va curato e va curato velocemente subito perché domani devo andare in palestra in piscina perché domani devo studiare e che cosa meglio allora della pastiglia che risolve il problema ecco questa mentalità quick fix è veramente far abbrividire per fortuna non ci appartiene in Italia quindi combattiamo contro queste sirene del tutto subito e facile che arrivano da oltreoceano e anche senza promuovere una cieca battaglia contro le multinazioni americane cerchiamo però di essere consumatori accorti e consapevoli in questo tv come la vostra fanno la differenza perché è vero l'informazione è in questo caso specifico psicofarmaci sui bambini veramente il punto chiave fondamentale arrivare ai genitori alle famiglie agli operatori spiegare far capire magari spendere quei tre minuti in più di un servizio al Tg ma far passare veramente il messaggio perché perché le pressioni sono forti per contro non possiamo nasconderci anche senza appunto far battaglie cieche che questo tipo di psicofarmaci rappresenta un nuovo business sono circa 12 miliardi di dollari all'anno di giro d'affari solo per i farmaci per l'iperattività vuol dire quasi o qualcosa più di 20 mila miliardi di vecchie lire il solo metilfenidato genera un giro d'affari di oltre 2 miliardi di dollari all'anno è vero alcuni dicono in maniera del tutto veramente in malafede è un farmaco che costa poco sì è un farmaco che costa poco peccato che ne vendano milioni di confezioni quindi genera un giro d'affari importante l'abbassare la storia di prescrivibilità come è stato fatto recentemente per esempio per il Prozac che mi due a le dirlo si può dare ai bambini di 8 anni in caso di depressione mi piacerebbe ancora capire come determinare che un bambino di 8 anni è depresso ma veramente oppure grande business anche quello un adolescente depresso quale adolescente non è stato depresso una volta in vita sua per mille e uno motivi legati a quella fase delicata che è quella dello sviluppo allora le pressioni per abbassare la soglia di prescrivibilità di questi farmaci sono veramente fortissime perché nessuno vedete fino a 20 anni fa aveva mai pensato di dare uno psicofarmaco così potente a un bambino di 6 anni di 8 anni e invece oggi si inizia a fare si fa e questo è l'allarme che dobbiamo lanciare perché come dice un grande psichiatra Agostino Pirella che è presidente onorario di Psichiatria Democratica il farmaco ormai soffre ad essere considerato una merce come tutte le altre mentre invece lo è perché si vende con tecnica di marketing al pari di un automobili o di un telefonino perché ci sono fior di associazioni in giro per il mondo ce ne sono ben tre o quattro anche in Italia di genitori che costituiscono a volte anche inconsapevolmente il cavallo di Troia delle multinazionali perché se una multinazionale mi dice che lo psicofarmaco fa bene me lo dice il produttore magari diffido un attimo ma se me lo dice un altro genitore che è un mio pari gli do molto molto più retta in Germania hanno distribuito un nostro testimonio al Beppe Grillo ha raccolto i nostri documenti e ha lanciato nei suoi spettacoli questa denuncia uno puscoletto a colori di un polipetto iperagitato che va male a scuola ha perso la stima dei genitori i compagni non lo guardano più e lo trattano male a un certo punto si vedo proprio l'orologio ad ore fissa inizia a prendere lo psicofarmaco che è il Ritalin e improvvisamente va di nuovo bene a scuola i genitori li vogliono bene tutto va splendidamente e se ne andranno tutti come dice Grillo felici e impasticcati questo piccolo libretto in quarta di copertina al marchio Novartis è stampato dalla multinazionale che produce il farmaco quando il bambino e mira a rendere al bambino accettabile l'assunzione dello psicofarmaco tutto bello a colori disegnato ecco quando il bambino diventa in qualche modo soggetto diretto di un meccanismo di marketing dobbiamo veramente porci delle domande serie su dove sta andando questa società ma sai quando cominciano a proporre un antidepressivo come il Prozac definendolo la pillola della felicità già da lì si capiscono parecchie cose io lancerei un sasso che magari è una corbelleria in mane io dico sempre ai miei pazienti io mi occupo prevalentemente di adolescenti e giovani adulti che chi esprime il disagio questa tipologia di disagi di solito è la parte sana della famiglia forse è un po' provocatorio però devo dire che la clinica non mi dà tutti i torti perché poi in effetti chi riesce a buttare fuori anche in maniera anomala il disagio viva il disagio viva il disagio nel senso raccolgo la provocazione in questa chiave letta in questa chiave è molto intelligente viva il disagio perché appunto è il nostro campanello di allarme quello che ci permette di capire per tempo che c'è qualcosa che non va in questa società dove dobbiamo essere tutti perfetti tutti smaglianti tutti mulino bianco per usare una battuta e noi invece viva il disagio che ci permette per tempo di rintracciare qual è il problema di segnalarci il problema e ci permette di intervenire magari appunto in maniera un pochino più seria che non facendoci ammagliare dalle sirene del prodotto in scatola che ci risolve tutti quanti i problemi quindi sicuramente il disagio fa parte della nostra vita il dolore fa parte della nostra vita poi dobbiamo imparare in qualche modo a gestirlo al meglio facendoci anche aiutare da chi ci può supportare nell'andare oltre dei momenti di difficoltà anche grave ritrovando un equilibrio ecco questa è vita semplicemente sottolineare anche il grande valore della noia del silenzio il famoso spazio del silenzio che ci aiuta a pensare a ritrovare la capacità di pensare che i bambini un pochettino stanno perdendo e questo non è colpa certamente loro ma è colpa di un contesto sociale che sta appiattendo un pochettino la mente di ognuno di noi quindi dobbiamo lottare contro insomma in questo senso lottiamo contro noi cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo anche per questo cioè per difendere in qualche modo il diritto di tutti Gianluca i Marco i Paolo perché poi dietro questi numeri queste statistiche questo marketing questi fenomeni ci sono loro cioè ci sono dei bambini che hanno dei nomi dei cognomi delle storie delle famiglie un banco di scuola che può essere magari vuoto nel momento in cui il bambino è un problema serio allora noi impegniamoci noi di Giuremani Bambini ma tutti quanti come cittadini a difendere il diritto di questi bambini ad esprimere i propri problemi il diritto a fare casino il diritto per assurdo ad avere sfoghi di aggressività nel momento in cui sentono i doverli avere insegnamogli casomai come fare nel tempo a gestirli lavoriamo per difendere il loro sacrosanto diritto ad essere diversi anche per la diversità è ricchezza la diversità è un'enorme risorsa viva la diversità grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi